Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, dopo tanto tempo ci ritroviamo e oggi torno con un video molto importante perché Iei ha rilasciato il trailer ufficiale del gameplay di FIFA 21 con tante novità che andiamo a vedere prima proprio andando a riguardare insieme il trailer che ho già visto con i ragazzi su Twitch ma che porto anche qui sul tubo e poi andiamo a leggerci quelle che sono le pitch notes nel quale sono spiegate nel dettaglio tutte quelle che sono state le migliorie effettuate anche se ovviamente poi dovremo andare effettivamente a guardare quando il gioco uscirà come andranno a funzionare quindi senza perderci troppo in chiacchiere perché credo che questo sarà un video abbastanza lungo andiamo a guardarci insieme il trailer che appunto parte parlando di gameplay features quindi di novità in termini di gameplay e dopo una piccola panoramica un po' su quelle che sono le modifiche in maniera generale adesso andiamo poi a vedere quelle che sono i cambiamenti nel dettaglio e comparto per comparto se non erro inizieremo esattamente proprio con la gel dribbling ovvero il dribbling con l'L1 che viene reworkato e che secondo me va ad assomigliare in maniera un po' pericolosa a quello di FIFA 17 guardate qui il classico sgranchieggiamento che vi permette insomma di poter saltare gli avversari e che stavolta si farà con R1 più la levetta analogica a sinistra quindi probabilmente anche l'anno prossimo vedremo in meta soprattutto per quanto riguarda il comparto offensivo giocatori super agili con 5 di piede debole che vi permettono di essere super imprevedibili e di poter bucare le difese avversarie appunto proprio grazie a questo fattore sorpresa in quanto i vostri avversari non sanno dove vi girerete seconda modifica e novità è quella delle creative runs che probabilmente per me è la più significativa ossia la possibilità di poter controllare quello che è l'inserimento del vostro compagno una volta eseguito l'1-2 e dopo vi andremo a vedere effettivamente come funziona e come si performa questa cosa nelle pitch notes adesso vedete un po' come funziona vedete che con l'1 voi fate scattare il giocatore poi aggiungendo il movimento dell'analogico destro potete controllare quello che è il suo inserimento anche sui cross, passaggi raso terra eccetera abbiamo poi questo positioning awareness ossia la capacità di un giocatore di occupare una determinata area del campo e di rendersi conto effettivamente di quello che sta facendo vedete qui come Aguero rientri dal fuorigioco dopo esserci finito o in un altro caso rallentare la propria corsa per rimanerci in gioco a mio modo di vedere questa è una cosa che ci sta quante volte vi è capitato che l'attaccante vi finiva in fuorigioco cosa che invece mi ha dato fastidio vedere questa serie di auto block da parte del difensore e che appunto poi andremo a vedere dipende dagli attributi dopo nelle pitch notes c'è poi questo natural collision system che ci fa vedere come insomma il sistema di rimpallo sia più simile a quello che effettivamente avviene nella realtà senza che ci siano troppe bullshit in termini di inciampamenti vari infine abbiamo i fundamental football ossia i fondamentali del calcio che sono stati reworkati e resi efficaci quindi vedete cross, colpi di testa che erano stati resi totalmente inutilizzabili quest'anno tornano un po' in voga così come questi lunghi lanci filtranti che sicuramente vedremo tanto per quanto riguarda soprattutto moduli come 4-2-3-1 e 4-4-2 poi si parla di questa competitor mode che insomma non è altro che comparto e-sport quindi e-sports ready per questo gioco che sicuramente dovrà segnare un momento di svolta anche se probabilmente la svolta vera e propria avremo l'anno prossimo con FIFA 22 ovvero un gioco designato solo per le next gen poi c'è quest'ultima feature che è il gameplay rewind per quanto riguarda l'offline come accade per esempio nei giochi di Formula 1 eccetera se sbagliate un'azione potete tornare indietro per capire cosa avreste potuto fare quindi per quanto riguarda il trailer è tutto io direi che possiamo passare direttamente a quella che è l'analisi delle pitch notes e appunto andando nel dettaglio vedete qui un overview su quelle che sono tutte le diverse modifiche che sono state apportate in particolare abbiamo player personality, agile dribbling, creative runs, position personality smoothers encounters, enhanced CPU AI che questa cosa mi triggera fundamentals of football, dare maggior controllo ai giocatori, migliorie generali eccetera 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 quindi direi di partire da questa player personality quindi vedete che l'articolo in inglese purtroppo non c'è ancora quello italiano quindi io cercherò di tradurvelo al meglio che posso per cui si dice prima che ci lanciamo in quello che è FIFA 21 abbiamo prima una overview su quella che è la player personality uno dei nostri obiettivi è quello di assicurare che giocatori di livello mondiale possono effettivamente rendere come rendono nella real life quindi mostrare la personalità del giocatore che ha talento in diverse aree del campo in maniera tale che possa brillare sofisticati questi live per fare ciò abbiamo fatto sì che il numero di attributi che sono necessari per poter decidere ogni azione appunto è maggiore per esempio nel passato un passaggio filtrante fatto con appunto triangolo o un L1 triangolo viene terminato dagli attributi di passaggio corto e passaggio lungo adesso invece un buon passaggio non solo dipenderà da questi attributi ma anche da vision e da composure quindi la freddezza quindi tante cose dipenderanno da più attributi quindi io credo anche un tiro un tiro non solo dipenderà dai fattori di tiro ma anche di freddezza eccetera eccetera questo ci permetterà che appunto di portare questa player personale da un livello successivo eccetera 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 ma passiamo al gameplay già il dribbling come abbiamo visto anche nel trailer è un nuovo modo per tenere la palla vicino ai piedi ispirata da alcuno dei maggiori di libbre del calcio reale è un nuovo modo di darti l'abilità di controllare la palla in maniera rapida da un lato all'altro dei tuoi piedi per poter far sì che salti i difensori o creare spazio o far fare fallo ai tuoi avversari per poter fare un agile dribbling devi mantenere R1 muovendola all'analogico di sinistra e vedrai che il tuo dribbler muoverà la palla in maniera rapida e tocchi precisi ovviamente ogni giocatore può fare agile dribbling ma un giocatore con maggiori attributi di dribbling, agilità, reaction e controllo palla chiaramente lo farà in maniera più precisa e in una maniera migliore abbiamo anche poi introdotto quello che è il contextual agile dribbling ossia la possibilità di avere che già il dribbling sia fatto in maniera automatica in alcune aree del campo dei tuoi giocatori qualora il gioco lo ritenga giusto questa cosa però potete attivarla e disattivarla dalle impostazioni io credo che sia meglio disattivarla già a prescindere da adesso però lo vedremo insomma poi si dice che per poter avere un dribbling ancora più dinamico è stato anche migliorato quello che è il sistema di agilità di un giocatore quando fai il dribbling semplicemente con la lavetta analogica sinistra o quello strafe con L1 che è stato introdotto l'anno scorso quindi comunque ci sarà anche quello con L1 ma ci sarà anche quello con R1 introdotto quest'anno passiamo alle creative runs la cosa che maggiormente mi incuriosisce ossia la possibilità di poter avere più controllo dei tuoi giocatori con le creative runs e ti dà la possibilità di poter controllare quelli che sono i tuoi giocatori senza il pallone appunto permettendoti di rompere le difese avversarie con più creatività directed runs ossia puoi avere controllo totale a 360 gradi della direzione della corsa dei tuoi compagni questo facendo come? muovendo l'analogico destro dopo aver triggerato l'1-2 quindi con L1 oppure chiamando un compagno vicino quindi schiacciando R1 e poi muovendo l'analogico destro quindi questo tanta roba ma tanto sarà da vedere come sarà influenzato da quello che sarà poi il discorso server insomma eccetera eccetera abbiamo poi questi diretti passaggi e go ossia decidi dove il tuo giocatore farà la corsa dopo un passaggio immediatamente dopo averlo ricevuto muovendo sempre quello che è l'analogico destro nella direzione desiderata e questo funziona con ogni tipo di passaggio e anche con i cross quindi voi passate la palla subito con l'analogico destro decidete dove il giocatore che ha passato la palla deve andare anche questo vedete come funziona e direi che sicuramente è tanta tanta roba e puoi avere 5 giocatori simultaneamente che stanno correndo nella direzione dove avete detto voi quindi praticamente potete avere tanto il controllo dei vostri giocatori in fase offensiva e per avere più controllo fliccando l'analogico destro in ogni tempo appunto puoi controllare quello che è il movimento dei tuoi giocatori lungo la strada vedete anche qui sul cross e per tutte queste meccaniche però c'è una finestra di tempo limitata dove tu puoi decidere effettivamente dove triggerare la direzione della corsa dei tuoi compagni per poter evitare che questo vada in conflitto con le skill con lo switch eccetera però io mi immagino già che col delay vabbè speriamo sempre incrociamo le dita non partiamo già col piede sbagliato e c'è anche la possibilità di avere un trainer che fa vedere dove stanno correndo i tuoi giocatori dopo che hai mosso l'R2 però l'R3 però in questo caso se fate partire 5, 4, 3 giocatori solo gli ultimi due si vedrà effettivamente col trainer dove stanno andando abbiamo poi questo positioning personality ossia in FIFA 21 ci siamo concentrati nell'aggiungere maggior player personality ai giocatori controllati alla CPU sia in maniera offensiva che difensiva per far sì che l'abilità dei più grandi calciatori sul campo virtuale si va in qualche modo a corrispondere a quella che la controparte nel loro calcio reale quindi vogliamo che giocatori che sono tatticamente consapevoli di avere un maggiore impatto su FIFA essendo nel posto giusto al posto giusto per poter avere insomma tiri buoni passaggi buoni o bloccare la palla e mentre abbiamo fatto queste migliorie nella CPU abbiamo anche però vogliamo anche soffermarci sul fatto che questi specifici comportamenti mostreranno la personalità e la profondità del sistema che hanno appunto sviluppato i attributi principali affinché possiamo determinare quanto questi giocatori sono buoni in questi comportamenti sono il positioning quindi il posizionamento per l'attacco e la defensive awareness per quanto riguarda i giocatori con personalità difensiva vediamo in particolare per quanto riguarda l'attacking positioning attributo quindi per quanto riguarda il posizionamento in attacco come funzionerà l'attributo posizionamento in attacco in particolare significa che se un giocatore ha 85 è chiaro che magari avrà dei comportamenti buoni ma uno con 90 ne avrà migliori e con 99 ne avrà in maniera esponenzialmente migliore in particolare questo riguarda quelle che sono le corse in gioco e in fuorigioco vedete qui come se un giocatore a posizionamento basso va in fuorigioco e invece un giocatore posizionamento alto guardate come rimane in gioco fino a quando voi non gli passate la palla tuttavia questo comportamento non lo possiamo vedere quando avremo l'istruzione inseriscita alle spalle e manovra veloce che quindi ci fa anche capire che le tattiche rimarranno uguali quindi queste due impostazioni fanno in qualche modo azzerare quello che è l'impatto dell'attributo posizionamento alto abbiamo poi quella che è la capacità del passatore di reggere quelle che sono le corse quindi capire quando il possessore della palla è pronto a fare un passaggio così il giocatore potrà correre in maniera proporzionale e perfetta ovviamente attributi alti mostreranno una maggiore intelligenza per quanto riguarda il movimento basato su dove il passatore sta guardando si sta muovendo questo comportamento viene tolto da manovra veloce inserisci alle spalle poi abbiamo decision making time ed intelligence l'abilità di fare delle decisioni in maniera più accurata e rapida dipende dove il giocatore si muove e quando si muove quindi alti attributi del posizionamento faranno sì che il giocatore magari si muoverà in maniera più intelligente e più rapida abbiamo poi passing lane analysis quindi il giocatore con un alto attributo di posizionamento sarà in grado anche di reggere quale è lo spazio nel quale inserirsi per poter andare a ricevere quello che è il passaggio del passatore abbiamo poi anche open up space ability ossia la capacità di poter creare della separazione correndo in diagonale quindi per liberare lo spazio vedete qui io sto attaccando guardate il giocatore che rimane in gioco taglia in diagonale alle spalle del difensore e si crea spazio abbiamo poi ideal crossing positioning quindi il posizionamento migliore su dove ricevere la palla su un cross fake runs inside the box quindi figgere di attaccare l'area sempre per creare dello spazio e chance creation support quindi gli attaccanti controllati all'icpu saranno anche in maniera sapranno leggere la mancanza di passaggi in maniera tale magari da venire indietro per cercare di ricevere passaggi dai propri compagni quindi un po' quello che si faceva con fai salire la squadra l'istruzione che ad esempio utilizzavo anche io sui miei attaccanti per quanto riguarda invece la defensive awareness attribute in particolare riguarda la run tracking ossia la capacità da parte di un difensore di leggere quella che è la corsa dell'attaccante quindi sia di anticiparla ma anche quella di accompagnarla abbiamo poi il two man marking to prevent counter attacks ossia l'abilità di due giocatori con alti attributi difensivi di marcare un attaccante così ha un limitato spazio per evitare un contropiede e riguide due giocatori controllati da cpu entrambi con defensive awareness alta quindi cpu a go go defensive midfield di gerente tracking l'abilità di marcare e insomma coprire le corse degli attaccanti senza lasciarli liberi quindi proprio addosso gli staranno e questo darà la possibilità di traccare i movimenti pericolosi degli attaccanti anche se quelli sono già marcati da un compagno quindi di scalare poi abbiamo i defensive midfield e cutting pass in lanes quindi la capacità di mettersi sulle linee di passaggio di centrocampisti con alta mentalità difensiva active passive active vs passive winger behaviors ossia determina come active wingers quindi credo che l'esterno selezionato can get whenever you prefer defense you suggest mark ok si quindi esattamente la capacità delle ali di poter coprire anche in fase difensiva fullback cooperation ossia better awareness una migliore awareness difensiva riguarda anche quello che è il posizionamento dei terzini permettendo loro di lavorare meglio in maniera difensiva marcando in maniera migliore quando un terzino va in avanti l'altro copre e viceversa ovviamente i terzini con una maggiore defensive awareness sono più efficaci in quelle che sono le rincorse difensive guardate qui questa è una cosa che però mi triggera perché tutto ci più tutto ci più guardate qui io sto attaccando sto selezionando questo questo è bello e buono fa una rincorsa da solo e vabbè per quanto riguarda invece i smoother encounters senza soffermarci troppo riguarda appunto quello che è il discorso relativo a rimpalli che sono maggiormente fluidi guardate qui la palla come in cespica inciampa e rimane lì bla 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 qua invece inciampa una volta e insomma poi e rimane disponibile stessa cosa qui per quanto riguarda poi questa enhanced cpia in competitor mode riguarda quelle che sono le modalità offline quindi poco ci interessa per quanto riguarda squad battles eccetera e passiamo a quelli che sono i fondamentals of football ossia proprio quelle cose tipiche del calcio come i colpi di testa in fifa 20 abbiamo preso la decisione di rendere i colpi di testa poco effettivi tuttavia in fifa 21 vogliamo migliorare quella che è la viabilità di segnare di testa mantenendo skill gap in the game introducendo questo colpo di testa manuale praticamente il colpo di testa appunto ve lo andrete a fare in maniera manuale come un po' dei settaggi manuali tiro passaggio che sono difficili quindi sarà difficile ma sarà possibile segnare di testa e giocando con questa opzione il tuo colpo di testa non sarà assistito in nessun modo in maniera tale che la direzione e la potenza la mettiamo noi io credo che quindi se non lo attivate il colpo di testa sarà come quello dell'anno scorso se invece attivate questa opzione sarà come quello di quest'anno e chiediamo che questa funzionalità permette di avere maggiore opportunità usando la testa per insomma segnare o avere la possibilità di segnare e magari minacciare l'avversario per quanto riguarda la difesa hanno aggiunto la player personality per i tackle dando la possibilità insomma ai top defender di avere maggior precisione in quelli che sono i contrasti o di capire dove la palla sta finendo e in questo caso facendo un tackle in piedi si useranno una combinazione di standing tackle defensive awareness e aggression attributes quindi sempre il discorso di prima relativo al fatto che ci saranno maggiori attributi nell'andare a impattare singole fattispecie del gioco abbiamo anche poi reworkato quelli che sono i contatti con la spalla che appunto hanno un migliore contatto tra i giocatori per evitare che i difensori distruggano in maniera troppo facile gli attaccanti seal outs sono quando i giocatori si mettono tra l'attaccante e la palla per prendere insomma possesso del pallone e anticipare gli attaccanti e hanno ricreato anche questa cosa per aver sì che ci sia un migliore posizionamento tra il giocatore e il proprio opponent per avere un contatto spalla a spalla un seal out bisogna premere l2 o lt mentre si è spalla a spalla con il proprio avversario mentre si sta difendendo blocking we are excited excited abbiamo refreshato il sistema dei bloccaggi in maniera tale che adesso saranno anche peggio perché i giocatori con un'alta player personality altri attributi difensivi bloccheranno la palla come se non ci fossero domani yeee quindi voi pensate io penso ovviamente in ottica competitive sarà un dramma dove tutti quanti avranno super difensori arrivi in aria tiri boom dan dick si butta di petto per salvare triggerato questo veramente triggerato per quanto riguarda poi i passaggi l'obiettivo per quest'anno è quello di creare un sistema di passaggi più intelligenti l'obiettivo è quello di migliorare il sistema dei passaggi aggiungendo una migliore comprensione dello spazio e della posizione degli avversari abbiamo true passing quindi il sistema dei passaggi filtranti è stato ricreato da zero praticamente e abbiamo pass openness ovvero dare passaggi intelligenti avendo l'abilità di aprire il campo insomma avendo la possibilità di controllare il ricevitore di palla lontano dai propri avversari pass complexity nuove traiettorie di passaggio sono possibili permettendo di avere killer passaggi filtranti mettendola appunto nelle condizioni quello che è il proprio giocatore di poter segnare vi è anche un nuovo semi assistito sistema di passaggio filtrante che permette di controllare quello che è l'input e decidere di controllare poi quello che è il bersaglio del passaggio di dare più controllo e però questo verrà detto dopo nell'articolo crossing è stato rimodellato ci sono tre tipi di cross abbiamo il whip head cross con r1 più x ispirato da alexander arnold driven cross che è più veloce e il ground driven cross che sarebbe il cross rapido che passa per terra vi è poi anche un update a quello che sono i cross assistant settings con assisted che è quello di default e poi abbiamo il semi assisted che è un po' più manuale abbiamo poi quelle che sono le vecchie traiettorie di cross o quelle che appunto già esistevano vi sono poi altri miglioramenti ovvero quelli che abbiamo visto in precedenza anche la possibilità di fare all'ultimo secondo una transizione per permettere la direzione dei propri cross alti nuove traiettorie eccetera eccetera poi ci sono nuove animazioni per quanto riguarda la fluidità e questo in particolare è una cosa che mi interessa ossia la possibilità di avere più controllo dei giocatori e in questo caso si può fare effettivamente un tunnel premendo l1 più rs che è una cosa simpatica anche la bridge skill per poter battere l'avversario in 1v1 si può finalmente decidere quando non volere il vantaggio schiacciando lr2 più r2 si può fare lhard tackle schiacciando r1 e cerchio setup touch quello che vi faceva spostare la palla per il tiro è stato reworkato in maniera tale che sia più rapido e i tiri saranno più efficaci quindi occhio questa pure me puzza sono stati migliorati quelli che sono i tiri a giro si possono chiamare i giocatori dentro l'area per quelli che sono i goal kicks quindi rivita al fondo del portiere per avere un maggiore controllo quindi forse non si faranno più quelle boiate che passi la palla all'attaccante ci sono poi queste super cancel mechanics ossia appunto si può andare a cancellare tutti quelli che sono i comandi stai tirando premi lr2 r2 boom cancelli cancelli la giocata stessa cosa per i passaggi stessa cosa con le skill in particolare ci sono nuovi settings che vengono aggiunti al pad finalmente c'è l'abilità che si può togliere quelli che sono i maledettissimi colpi di tac automatici le spazzate le spazzate automatiche i tiri automatici il player lock automatico il dribbling che abbiamo visto in precedenza l'assisted dead eccetera 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 per quanto riguarda poi ci sono anche quelli che sono dei miglioramenti alle skill viene ridotta quella che è la penalità nel cenare le skill quindi in questo caso si possono fare non più due ma fino a tre skill complesse come crocchette elastico e drag back per quanto riguarda invece le skill semplici come fake shot eccetera eccetera o tacco tacco se ne possono fare sei di fila senza essere che la palla si allunga una cosa però che me trigger è sto drag back che si fa l1 r1 più left stick in 180 gradi cioè il drag back quindi sarà difficile da fa me sa da quello che ho capito e viene aggiunto anche la player personality al drag back che quindi lo rende più lento se il giocatore ha scassi attributi per quanto riguarda skill moves eccetera poi la palla viene tenuta più vicina su le biciclette tutti i giocatori possono fare le skill ma la loro efficacia dipenderà dalle loro skill moves rating ed attributes quindi roulette il twill eccetera eccetera skill moves cancel non possono essere cancellate alcune skill come scoop turn fake pass stop and turn turn e spin lane chain eccetera eccetera ci sono queste nuove skill che bisognerà vedere poi ci sono questi general improvement per quanto riguarda migliorie che sono state fatte alle skill allo switch general responsiveness eccetera eccetera per quanto riguarda la qualità della vita è stato tolto lo shushing sono stati ridotti i tempi del kick off della rimessa dal fondo del calcio d'angolo del rigore eccetera alcune volte le animazioni si schippano da sole in maniera tale che appunto il gioco sia più fluido e è nulla per quanto riguarda poi c'è il timer per quanto riguarda il team press che quindi non può essere messo più in maniera automatica ma viene chiamato tipo il fuorigioco che questa è una gran cosa giochi acceleration deceleration goalkeeper save cost intensity quindi anche il portiere è stato migliorato per quanto riguarda il posizionamento parate in generale eccetera poi queste cose qui invece riguardano quelle che sono le modalità di kickoff quindi offline che non ci interessano quindi le novità sono veramente tante penso era da un po' che non si vedevano così tante novità devo dire che i presupposti per avere un bel gioco ci sono si spera solo che la cpu non sia invasiva come sembra perché sembra che veramente sia tanto invasiva però siamo ad agosto è presto per giudicare presto per parlare però era giusto fare un video panoramica su tutte quelle che sono le novità giusto farlo anche in italiano visto che per un posto articolo rimarrà solo in inglese e nulla ragazzi spero che questo video vi torni utile io vi do appuntamento per qualche giorno ancora su twitch poi ci rivedremo con calma quando ripartirà bomba la stagione perché siamo carichi sia io che Danny vogliamo portare gli exeed al top quindi ragazzi vi saluto vi do appuntamento a un prossimo video e grazie a tutti se siete arrivati fin qui hashtag fin qui se siete arrivati fin qui un saluto ragazzi peace e grazie a tutti